Sì, dai da qua. Eh, però posso andare da qua. No, dovevamo arrivarci. Dov'era la spatola? Lì. Ok, sì, da qua. Ok, volevo evitare il fatto dei robot lì. Volevo prendermene da qui. No, da lì torni giù. Ah, no. Cioè, è andato. Perché prima mi sono lanciato male. Ok. Beh, puoi andare anche direttamente lì e schippare tutta quella zona. Eh, ma da qua dovevo andare. Qua che continuavamo. Beh, allora la scatola non te la contavo probabilmente. Ma perché la scatola è una lezione alla tezzana. Grazie. Devo schippare lì prima che rinasci il robot. Dobbiamo togliere di mezzo? Ma lo lasciamo. No, quando togliere di mezzo? Qui c'è il ketchup che ti ferisce. Che c'è questo qui? C'è una volta. C'ha tre occhi, c'è. È il pesce quello dei Sims. Quello che aveva tutti i miei occhi. La bomba è che si suicida. Ok, razzi. Non mi ha mai preso col razzo. Perché sto ingossando la biancina di Spongebob? Sì? Sei tornato indietro solo per ucciderla, eh? Non mi ha preso un innaccio dopo. Lo schiarma. Non lo so, non mi ricordo, spero. Ok. Il checkpoint è qua. Guarda, vaffanculo, lo lascio lì. Vai, vai, sei concentrato, lo si vedevo. Cos'è quella lì? Ghiacciata? Eh, è ghiacciata. Ah, diventano di quel colore lì perché c'è... No, perché la statua Tiki, vabbè, no, c'è una strana... La statua Tiki sembrava di un colore diverso. Sembrava un'altra statua diversa. Subito era spawnato. Che roba, figlia di puttana. Ci sono il malone, che sofferenza. Questo posto è un incubo, comunque, con tutti questi... Che cazzo di... È pieno di quelle macchinette che li spawnano, è pieno. Questo c'è il pezzetto, va a vedere? Sì. No, c'è la lingua. È la lingua il pezzetto? Ah, è la lingua, ok. Sì, c'è una nuova zona. Abbiamo preso tutto di là? Beh, guarda la domanda. Eh. Manca la recupera i guanghi. Fatto le volteggi. Fatto le volteggi. E hanno ancora da segnare. Beh, siamo quasi alla fine, comunque, di questo rockbot. Ma... Ci sta. Vogliamo andare avanti. C'è tanto di rockbot. È rimasto solo questo. Non ho visto nessuna cosa dove serviva, cose che non abbiamo imparato. qui della... Senti è andato a decidere andare in feria. Sì, chissà. Questo perché non c'è un altro cambio più avanti. Te l'ha cambiato così e via. Ah, sì. Siamo all'inizio, praticamente. Qui andiamo all'inizio. Sì, è andato tipo una scioccat o qualcosa. C'è il mister club, c'è anche il burro. C'è anche la scatola. Beh, potrei giurare di aver visto una spatola d'oro proprio qui umido. Giù per la discesa. Forse si è rotta una gara. Bravo ragazzo, vai! Sì. A volte non c'è soddisfazione più grande di premere un pulsante. Premi, premi, premi. Di quelli devo capire come. Prova a saltare. No, anche rallentando. Prova a saltarli. Che? Se salti, lì, il beccolo. E' duro. Sono pronto, sono pronto, sono pronto. Non credo che devi riparlare, favore. Ah, guarda qua, cosa ti hanno fregato? Beh, non l'avevo visto. Vediamo i suoi rischi. Non so se sono tutte e due qua. Ci mancano tre spatole o un cazzino. E' pericolosissima sta cosa. No, quella no, adesso. Guarda, gioco un po' più... Cazzo. Però lo devi fare in determinati punti, altrimenti non è peggio. Beh, io ho preso la spatola, non so se devo fare qualcosa dentro il tempo. Lì c'è un lanciarazzo. Tu hai trovato qualcosa di diverso? No. Hai visto qualche cazzino? Non ho visto niente. Ok. E... Lì c'è una maledettissima... Non ci siamo mai andati, credo di... Qui no, non credo. Adesso... Sì, invece ce l'abbiamo andati. L'abbiamo bugato con Sandy, tipo. Non sa. Ah, i derrami sono stati qua. Prova ad andare a vedere, magari ci siamo aperti il cazzino. Vai giù, bravo. Rischio. Ah, sì, ma questa forse l'abbiamo già buona, questa cosa. Sì, non puoi prendersi piano. Vado, 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 solo che c'è il tiro di puttana che... Sì, sento una spugna nuova. Via. No, io cazzo. Non si è fermata, poi, strano. Via anche tu. Guardate a destra, a sinistra, c'è qualcosa. Là comunque non ci potrebbe arrivare lo spawn, non saurrebbe. Lì c'è la mutanda... Ma forse anche lì c'è... Qui c'è una stazioncina che ti porta da qualche parte. Ah, esatto. Proprio per vedere, tipo, sali da lì, vediamo se c'è qualcosa. Va bene, dai, aspetto che arrivi. Va a guardarti intorno. Guarda intorno, ti ascolta. Andiamo, cerchiamo di capire dove potrebbe effettivamente adesso. Gira questo di là, tipo. Qui c'è la pista di prima. Devi guardarti anche di là. Ma qua c'è tutto un vero. Eh, no, lì non c'è niente. Cioè, questo non è esplorato. Cioè che l'avamo già preso, lì, il calzino. E sembra che c'era un calzino. Come si è messo? Come rivedere? Non è anche un calzino. Un calzino... Una spatola qui, questa qua, spatola e volteggi. Eh, deve essere qua vicino. Guarda, io propongo anche di cliccarci, vediamo dove ci teletrasporta. Ah, allora vabbè, possiamo anche andare a prendere la prima volendo. Oh, vai lì, è uguale, dai. Fatto la prima, è facile. La prima, vabbè, devi solo consentire i quadri, te la dà, non interessa. Vediamo quella, questa. Fai sicuro, è Sandy? Che spatola e volteggi? Eh, sì. Credo che sia Sandy. Infatti, dobbiamo andare a cercare una conchiglia per cambiarsi, non so. Vi ho il formato dell'autobus. Sì. Sì, vabbè, è fatta forma di conchiglia, padre. Dove sarà la conchiglia? Oh, lo fai. Quando la pesta. Non vedo niente, è buono qua. Sono stronti, pronti. Vai, lasso. Ok, allora. Proviamo a far giro. Vabbè, vai da lì, tanto con Spangelo è una festeria. Spangelo è il migliore combattente, posso? No. Quelli se li colpisci prima che splada non ti fanno male. Se l'esplosione poi ti stanno... Infatti, li continuano a tirare tra la macchina, quindi battano. Sì, esatto. Tanto questo pezzo l'avevamo comunque fatto. Sì, prendiamo la scatola. Le scatole ce l'avevamo. Ormai le scatole penso le abbiamo tutte. A conto, dico, prendi la scatola. Ah, allora, so, è tu direttamente. Goal! Cazzo di merda, se era preparato. Mi sento una spugna nuova. Ma consente. Che direzione andresti allora? È indietro, vado a mandare la figlia a spatola, quindi... Aspetta, guarda, c'è... È un coso che gira lì. Sì, è un coso che gira lì.